abbiamo un'altra grandissima grandissima lady eh della televisione italiana che è la nostra Maria De Filippi. Buongiorno Maria. Buongiorno a tutti, buongiorno, bentrovati a C'è posta per te. Questa è la storia di un regalo. Bentrovati a tutti ma soprattutto bentrovato Vasco. Come stai? Tutto bene? Eh sì dove siamo? Dove che siamo? Ecco il nostro Vasco Rossi Vasco siamo a Roma. Eh io sto bene solo per le stesse a zocca. Ma pensa io ho una zia di zocca. Eh sticcarsi. Vasco dai aspetta su allora questa è la storia dicevo di un regalo quel regalo sarà proprio Vasco Rossi perché Gabriella è una sua fan svegatata da anni e Michelangelo Maria Sossio vuol farle vivere un momento di gioia. A scrivere al programma è stato proprio Michelangelo Maria Sossio. Questa sera lui chiederà a Gabriella di sposarlo. Perché lei è la donna della sua vita perché lei è bellissima e perché la sua bellezza riempie di luce ogni momento della loro giornata dai momenti più semplici a quelli più complicati. Facciamo entrare Michelangelo Maria Sossio. Allora Michelangelo siediti lì vicino a Vasco. Eh non troppo vicino amico perché sei una bella figa. Vasco Vasco. Bene. Ora forza adesso dovete fare silenzio perché perché facciamo entrare Gabriella. Allora Gabriella siediti pure ora si aprirà la busta. Tu lo vedrai anzi vedrai la persona che ti ha mandato la busta e poi mi dirai se quella persona dall'altra parte può parlare. Ok fai silenzio. Apriamo la busta. Cazzo che gnocca ragazzi. Sì c'è che quando stai zitto non puoi parlare. Come faccio a parlare davanti a questo qua. Guarda che figa dai. Si chiara come l'alba si fresca come l'aria. Vasco ora ti sei fatto riconoscere mi hai rovinato la sorpresa mi hai rovinato. Aspetta che gli ando io la sorpresa. aspetta Gabriella vengo lì. Eccomi guarda te. La vuoi la sorpresa? Vasco fermo. Fermo. Quello con quel nome da creativo ti vuole sposare ma vuoi mettere con quello che ti posso offrire io. Vieni come dai. Gabriella. Ma dove andate? Fermi. Vasco non te la portare via. Lasciano stare. E niente sono andati via. Michelangelo Maria Sossio mi dispiace sono scappati insieme. Vuoi diventare tronista? Niente non risponde. Vabbè facciamo entrare Gianni. Non c'è. Facciamo entrare Tini. Non c'è. Ma sapete chi è? No. Chi è? E' quella esperta di astrologia che è sempre vicino. Ma non parla mai. A Tina e Gianni si chiama Tini. Va bene facciamo entrare Tina. M100 show. E' un litiveio. Uuh... Uau... Uuuuh... Uuuuuuh... Uuuuh... Grazie.